La tragedia di Rigopiano Sono stati tutti recuperati, i corpi rimasti all'interno dell'hotel di Farindola sono 29, le vittime rimaste sotto le macerie, 11 i sopravvissuti. Ora si attendono le autopsie in corso all'ospedale di Chieti e i risultati delle indagini sull'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Tutti i particolari nel servizio di Francesca Romana Testi. È definitivo ormai il bilancio, sono 29 le vittime recuperate dai soccorritori tra le macerie e la neve dell'hotel Rigopiano. Gli ultimi due corpi sono stati estratti poco prima della mezzanotte di mercoledì 25, ad una settimana esatta dalla Slavina. Diversi locali dove si trovavano le vittime e nella hall dove secondo le testimonianze Roberto Del Rosso, proprietario del resort, aveva fatto raccogliere gli ospiti dopo le scosse di terremoto. In attesa dell'arrivo dello spazzaneve per poter liberare la strada e permettere a tutti di ripartire. E poco più in là, nel bar, nella sala biliardo, nella cucina, hanno scavato senza sosta i soccorritori cercando di muoversi nella maniera più veloce possibile. Secondo le prime sei autopsie effettuate dal medico legale e rese note dal procuratore che conduce l'inchiesta sul disastro colposo e l'omicidio plurimo colposo, le morti sarebbero avvenuti per concause, schiacciamento, asfissia, ipotermia. A salvarsi 11 delle 40 persone presenti, Gian Piero Parete, il cuoco che ha chiesto soccorso al suo datore di lavoro, Quintino Marcella, colui che ha fatto partire la denuncia sul ritardo dei soccorsi poiché non preso sul serio, la moglie di Parete Adriana e due piccoli, Ludovica e Gianfilippo. A salvarsi anche il piccolo Samuel di Michelangelo, il figlio della coppia di Osimo. Edoardo Di Carlo, di 10 anni, rimasto anche lui orfano di padre e madre, di cui funerali si sono svolti ieri a Loretta Prutino. Fabio Salsetta, al tutto fare dell'hotel, che nonostante la sua presenza ininterrotta alle ricerche, ha scoperto che tra le vittime c'era anche sua sorella Linda. La coppia di Giulia Nova, i fidanzatini Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, che ieri, per la prima volta dopo il salvataggio, hanno voluto incontrare la stampa per raccontare quelle terribili ore fino all'arrivo dei soccorsi e hanno rivolto le condoglianze a tutti i familiari delle vittime. Francesca Bronzi, pescarese, salvata venerdì insieme agli altri due ragazzi e che purtroppo, dopo una falsa notizia sul salvataggio del suo fidanzato, Stefano Feniello, ha scoperto di averlo perso per sempre. Falsa notizia che ha scatenato la rabbia del padre Alessio. E infine Giampaolo Matrone, il giovane di Monterotondo, unico a necessitare di un intervento chirurgico per lo schiacciamento subito ad un braccio. È salvo ma ha scoperto di aver perso la sua compagna Valentina Ciccioni. Un bilancio dolorosissimo quello delle vittime che per una settimana ha tenuto parenti e amici in attesa di notizie all'ospedale di Pescara. Ospedale dove oggi invece si attende l'autopsia dei propri cari che si sta svolgendo a Chieti, poiché, come spiegato dal procuratore Cristina Tedeschini, necessaria per le indagini in corso. Tante erano state infatti le richieste delle famiglie verso la magistratura di poter riavere i corpi senza sottoporle all'esame. Una lunga pagina di dolore che ancora non si è conclusa e che adesso apre il capitolo indagini per verificare responsabilità e dinamiche della tragedia. Dalle comunicazioni diramate dal servizio Meteomont circa il rischio di valanga a Rigopiano, mai ricevuto dal comune di Farindola, alla costruzione del resort sul canalone del Montesiella, al piano neve della provincia di Pescara, alle conversazioni telefoniche intercorsi tra il professor Marcella e la prefettura di Pescara e successivamente gli altri numeri di soccorso, i fax inviati dal proprietario del Rigopiano alla provincia per chiedere intervento dei mezzi di spazzamento, alle conversazioni degli ospiti con i propri familiari per palesare la situazione a Rigopiano. Ancora nessun indagato nel registro, ma come ha spiegato il procuratore Tedeschini, un'analisi approfondita di tutti i documenti utili ad accertare il reale svolgimento dei fatti. Sono stati identificati i corpi di altre tre vittime dell'hotel Rigopiano. Si tratta di Valentina Ciccioni, Foresta Tobia e Bianca Iudicone. In totale il numero di persone identificate arriva a 24. E dunque sono altri cinque i corpi che si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Pescara ancora da identificare ufficialmente. Sono arrivate anche le parole del governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha detto abbiamo pregato affinché Dio ci restituisse salvi tutti coloro che erano rimasti sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. Purtroppo non è stato così e oggi piangiamo 29 vite. Porgo le condoglianze mie di tutti gli abruzzesi alle famiglie delle vittime. Ringrazio, ha aggiunto D'Alfonso, tutti coloro che a ogni livello si sono adoperati per prestare soccorso sul luogo della tragedia. L'Abruzzo, conclude D'Alfonso, saprà essere riconoscente con chi gli ha atteso una mano amica nel momento del bisogno. e in quattro immagini le prove fotografiche dell'evoluzione subita dalla vegetazione nell'area nella quale sorgeva appunto l'hotel Rigopiano, che vedete in immagini davvero abbastanza cruente, realizzate con il drone dai vigili del fuoco e che testimoniano di valanghe avvenute in epoca recente, prima del disastro dello scorso 18 gennaio. L'articolo 2 della legge regionale 47 del 92, che prevedeva la redazione di una mappa del rischio potenziale da valanghe, non è mai stata applicata dalla regione Abruzzo e anche una delibera della giunta regionale risalente al 2014, non ha mai trovato attuazione e quanto emerge dall'esposto inviato alla procura di Pescara, proprio dal forum H2O in merito al disastro dell'hotel Rigopiano. Nei giorni scorsi il forum ha posto l'attenzione sul fatto che dalle mappe geomorfologiche ufficiali della regione del 1991 e del 2007, quest'ultima approvata con delibera di giunta regionale si evinceva in maniera inequivocabile l'esistenza di conoidi di deiezione alla foce del canalone con accumuli di detriti di vari metri di spessore su cui è stato costruito l'hotel Rigopiano. Un passo avanti era stato compiuto dalla giunta regionale guidata da Gianni Chiodi che nel 2014 approvò il Catasto delle Valanghe con delibera numero 170 che, come evidenziato dagli estensori dell'esposto, al punto 2 dava mandato al servizio prevenzione dei rischi di porre in essere le necessarie attività finalizzate alla realizzazione e successiva divulgazione della carta di localizzazione dei pericoli da Valanga. Delibera ha evidenziato Augusto De Sanctis del forum H2O che non ha mai però trovato attuazione. Ed è drammatica la testimonianza dei due fidanzati di Giulianova, Giorgia e Vincenzo, scampati alla tragedia. Due ragazzi che hanno voluto ringraziare i soccorritori che li hanno estratti dalle macerie e tutta la loro città che gli è stata vicina. Ovviamente parliamo di Giulianova. Poi c'è stato un pensiero anche per le tante persone che hanno perso la vita nella slavina di mercoledì. Alfredo Primante. E' cominciato tutto diciamo con un boato e poi è crollato tutto. Un boato. Quello che le posso dire, un boato. Le parole di Vincenzo Forti e Giorgia Galassi riescono solo in parte a restituire la drammaticità delle 58 ore vissute sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola. Loro sono stati estratti vivi assieme a Francesca Bronzi, fidanzata di Stefano Feniello, il ragazzo di Valva in provincia di Salerno ma residente a Silvi che purtroppo non ce l'ha fatta. Ed è proprio a Francesca che corre il pensiero di Giorgia. Le due ragazze presto si incontreranno di nuovo per un abbraccio ed una parola di conforto. Per lui, ma soprattutto per Francesca che io l'ho vissuta a pieno tutte quelle ore, io mi sento morire per lei perché poteva succedere anche a me. I due fidanzati giuliesi arrivati solo poche ore prima a Rigopiano hanno raccontato di non essersi accorti della valanga ma di aver pensato ad un nuovo terremoto che avesse fatto crollare l'albergo. In quei minuti interminabili sotto le macerie e la neve sono stati guidati solo dalle proprie voci e sono sopravvissuti bevendo il ghiaccio che li circondava. In quella nicchia creatasi vicino al caminetto della sala da tè nessuno poteva sentirli e loro non potevano sentire nessuno, fatta eccezione per la moglie di Giampiero Parete, Adriana Branceanu, che era poco più avanti con il figlio Gianfilippo. Noi sentivamo dei passi, poi ho sentito la signora molto più avanti a noi che parlava, comunicava con qualcuno e io gli ho chiesto con chi parlava e lei mi ha detto sto parlando con il primo soccorritore che era Mauro, mi ricordo, e lì abbiamo iniziato a urlare, io lui e Francesca tantissimo, abbiamo iniziato a bussare, lui dopo un po' loro sono venuti da noi e ci hanno iniziato a parlare. State tranquilli che vi tiriamo pure pure a voi. Ancora sotto shock, Giorgio e Vincenzo raccontano quell'inferno di ghiaccio con gli occhi pieni di lacrime e la mente vola verso tutti coloro che avevano conosciuto all'oterrico piano e con i quali avevano condiviso l'ansia e la paura delle scosse di terremoto e che purtroppo non sono stati altrettanto fortunati. Io ho pensato che sono salva grazie a Dio, però sono molto dispiaciuta, ma veramente profondamente dispiaciuta, poiché io quelle persone le ho conosciute, ho visto il terrore nei loro occhi, sapevo che queste persone avevano dei figli. C'è stata una conferenza stampa da parte della protezione civile al centro di coordinamento dei soccorsi di Penne. Andiamo ad ascoltarla. Qui sulla tragedia di Rigopiano c'è la comunità scientifica che fa il monitoraggio della possibile ulteriore valanga a supporto degli operatori tecnici che hanno lavorato praticamente dal 18-19. Questo è il punto. Ovviamente qui abbiamo messo in piedi un sistema con più di mille operatori, ovviamente gestiti da un direttore tecnico dei soccorsi che ha messo insieme tutte le professionalità per operare in questa situazione che tecnicamente è veramente molto complessa. Io vorrei ancora una volta sottolineare la capacità, l'abnegazione, la professionalità di chi spinge la propria azione anche ben oltre quello che è dovuto, cioè veramente in condizioni complessi, molto complesse, basti pensare ai primi giorni alle condizioni meteo, ai soccorsi fatti durante questi giorni e anche passando per la tragedia che ha colpito il velivolo del 118 che seppur a margine di questa situazione fa comunque parte di un sistema complesso. Le operazioni di soccorso si sono concluse nella nottata, nella primissima mattinata e credo sia doveroso fare un punto e questa per noi è anche l'occasione per ringraziare tutti voi operatori della stampa, della comunicazione che avete seguito le attività delle strutture, delle squadre di soccorso sin dal primo momento. In questo momento serve anche a definire, ad esprimere, a dare a ciascuno di voi gli elementi che eventualmente doveste ritenere utili per valutare più complessivamente e conoscere più complessivamente tutto quello che è stato fatto. E passiamo purtroppo da una tragedia all'altra perché nelle prossime ore verranno effettuate le autopsie sul pilota e sul verricellista dell'elicottero precipitato a Lucoli martedì scorso. Paolo Lorenzetti. Dovrebbe essere effettuata in giornata dopo il conferimento dell'incarico all'anatomo patologo da parte della Procura dell'Aquila l'autopsia su Gianmarco Zavoli di Rimini. Il pilota dell'elicottero del 118 precipitato martedì scorso su un costone di Monte Cefalone a Lucoli poco dopo il valico della Crocetta in provincia dell'Aquila. L'esame autopsico è stato disposto anche sul verricellista Mario Matrella, 42 anni, pugliese di Putignano. Per le altre quattro persone, compreso il ferito che si trovavano a bordo del mezzo, dovrebbe esserci solo una ricognizione delle salme. Ieri intanto era stata recuperata la scatola arancione che contiene tutte le informazioni comprese le comunicazioni via radio, l'ipotesi che si fa strada nelle indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli e quella dell'errore umano. Sul luogo della tragedia c'era una fitta nebbia e un vento che soffiava a 40 km orari. Il reato ipotizzato dal pubblico ministero è disastro aviatorio e delitto colposo. L'inchiesta non ha indagati e probabilmente non ce ne saranno proprio perché l'ipotesi più accreditata è l'errore umano. Su disposizione del magistrato sono state già acquisite le telefonate arrivate e partite dal 118 dei medici che hanno gestito l'emergenza sanitaria. Sequestrati anche i registri di volo dell'elicottero, ma anche il materiale relativo alle revisioni anche presso l'azienda milanese In Air Aviation Italia, che ha vinto l'appalto per il servizio di elisoccorso. I funerali delle vittime, in particolare gli aquilani Walter Bucci, medico del 118, e l'infermiere Giuseppe Serpetti dovrebbero tenersi sabato nella Basilica di San Bernardino, dove già domani potrebbe essere allestita la Camera Ardente. Nella giornata delle sequie, come già annunciato dal sindaco Massimo Cialente, all'Aquila sarà osservato il lutto cittadino. E continuano a volare senza sosta dal piazzare della Villeroi a Teramo gli elicotteri della forestale dei carabinieri per raggiungere gli animali affamati della montagna e portare il loro cibo. Sono oramai quintali e quintali di fieno che si stanno stoccando grazie alle donazioni di consorsi e privati da tutta Italia e che basteranno fino alla prossima primavera. Una solidarietà che commuove, intanto si continua a scavare per tirare fuori il bestiame ancora vivo sotto le stalle crollate. Tania Bonnici Castelli Storie di distruzione nel Teramano che si intrecciano con la solidarietà dell'Italia intera a favore di questa provincia martoriata. Nel piazzale dell'ex Villeroi a Teramo si stoccano quintali e quintali di fieno, avena, orzo, farina di mais che arrivano da ogni regione italiana per poter sfamare gli animali rimasti senza cibo in montagna. Colonnello, grande solidarietà dal mondo agricolo per gli animali che stanno morendo di fame. Voi come forestale state portando questo mangiare a loro? Ci stiamo impegnando in questo arduo compito perché con quello che è successo ovviamente non è facile organizzarsi. Gli aiuti avvengono via aerea, via terrestre e anche direttamente. La cosa bella del mondo agricolo, di un mondo di cui si parla sempre poco, di cui non si conoscono molti aspetti è la solidarietà che c'è. È una solidarietà non solo Terramana, non solo Abruzzese, ma è una solidarietà che viene anche da fuori, viene dalle Marche, viene dal Veneto, viene dalla Lombardia. In questi ultimi due giorni quale zona avete raggiunto? Noi abbiamo raggiunto, ora siamo partiti soprattutto con i mezzi aerei, abbiamo servito Valle Castellana, Rocca Santa Maria e quindi oggi proseguono sempre in quella direttrice. Immagini che solo ieri noi abbiamo servito 27 aziende, 27, abbiamo consegnato 83 quintali di granaglie e abbiamo consegnato 800 quintali di fieno, che sono una quantità importante. E poi c'è la storia di una famosa azienda di salumieri di Castelcastagna che da quasi mezzo secolo produce alimenti nostrani di incredibile qualità. 11 stalle crollate, centinaia di suini sotto 3 metri di neve dopo una settimana dalla grande nevicata aggravata dall'ultimo sisma. Una tragedia economica ma anche sociale dalla quale sarà difficile riprendersi per le comunità montane. È una situazione francamente mai ricordata, una botta alla zootecnia che forse metterà in l'Abruzzo. Spero che questo faccia rendere conto le autorità che necessita un intervento non da poco. Quanti animali le sono morti? Attualmente non sappiamo. Io ho diverse stalle e quindi stiamo cercando anche tramite i vigili del fuoco a tirar fuori gli animali ancora vivi. Ma perché sono sotto la neve ancora? Sono sotto la neve. Parliamo di 3 metri di neve, non parliamo di centimetri. E consideriamo poi che una neve è così pesante mai ricordata e quindi la situazione è stata veramente tragica. Cosa chiedete agli amministratori? Poco a burocrazia e tanto immediato supporto alle aziende zootecniche. Scomparso a Pescara questa mattina Gianni Cordova, sociologo e presidente della Lega Antidroga. Personalità conosciutissima e impegnata in città sia nel sociale che nella politica, nel 2015 aveva ricevuto il ciatte d'oro. È morto a Pescara all'età di 71 anni Gianni Cordova, sociologo e presidente della LAD, Lega Abruzzese Antidroga. Cordova da tempo combatteva contro un male incurabile che ne aveva fiaccato il corpo, ma non lo spirito. bancario ed ex assessore comunale di Pescara, nelle liste del Partito Socialista, 26 anni fa aveva fondato la Lega Abruzzese Antidroga, creando nel primo nucleo di case un centro di recupero per tossicodipendenti che successivamente strinse contatti con quella di San Patrignano di Vincenzo Muccioli. Oggi la LAD è diventata una struttura che impegna una ventina di collaboratori e che si occupa del reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti. Centinaia ragazzi che si sono salvati grazie alla sua LAD. Accanto all'impegno sociale, Cordova ha sempre mantenuto anche l'impegno politico, tanto che nel 2014 si candidò alle primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco di Pescara, dalle quali uscì vincitore Marco Alessandrini. Mi colpisce il fatto che questa scomparsa, Gianni ci ha lasciato questa mattina, viene forse in una delle settimane più tristi della storia dell'Abruzzo. Ho ancora nel cuore il senso di Rigopiano, di tutto ciò che ha comportato. Oggi perdiamo come comunità pescarese un figlio illustrissimo che tanto si è speso negli altri. Io sono sicuro che nel nome di Gianni continuerà un impegno che altri svolgeranno raccogliendone il testimone o a favore dei più deboli degli ultimi e credo che questo sia il lascito più importante che Gianni Cordova con una vita spesa per gli altri ci ha lasciato. Come amministrazione comunale fino a poche settimane fa con la LAD avevate portato avanti diverse iniziative. Senz'altro, insomma. Io sono sicuro che questo continuerà perché appunto il grande impegno speso e profuso nel sociale dovrà continuare con la LAD, con chi prenderà il posto di Gianni e con appunto sempre questo impegno a favore degli altri che mi sembra appunto ciò che dobbiamo continuare a fare proprio nel nome di Gianni Cordova. Si è tenuta questa mattina a Chieti l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università d'Annunzio. Assente il comandante della Guardia di Finanza Toschi che doveva ricevere la Minerva. Un minuto di raccoglimento per le vittime dell'hotel di Rigopiano di Farindola e del maltempo che ha colpito il centro Italia nei giorni scorsi ha preceduto questa mattina a Chieti l'inizio della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università Gabriele d'Annunzio di Pescara Chieti ed il conferimento dell'Ordine della Minerva al comandante generale della Guardia di Finanza, il generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi però assente e al soprano di fama internazionale Carmen Remigio. Nel corso dell'evento di oggi si è tenuta anche l'intitolazione dell'aula magna del campus universitario di Madonna delle Piane al medico e scienziato pescarese Francesco Antonio Manzoli. Tante le personalità politiche e militari, oltre a tutto il senato accademico presenti questa mattina a Chieti, in prima fila anche i sindaci di Pescara e del capoluogo teatino Marco Alessandrini e Umberto Di Primio nell'aula magna assiepata di gente, anche tantissimi studenti. Domani a Teramo si svolgeranno regolarmente gli appuntamenti previsti dal calendario della stagione dei concerti della Primo Riccitelli. Domani manifestazioni speciali in occasione della giornata della memoria e ascoltiamo il presidente della società di musica e dei concerti, Primo Riccitelli, Maurizio Cocciolito. Una manifestazione che vedrà al centro l'autore, il compositore tedesco Felix Mendelssohn di origini ebraiche, quindi ci sarà una prima parte alle 17.30 al Cinema Smeraldo con la proiezione di un documentario e di un cortometraggio naturalmente su Mendelssohn sui rapporti con l'ebraismo. La sera invece alle 21 alla sala polifunzionale della provincia di Teramo, concerto di Roberto Prosceda, uno dei più importanti pianisti italiani della scena internazionale, presidente dell'associazione Mendelssohn. Naturalmente, come dicevo, saranno eseguite musiche di Mendelssohn, mentre nel pomeriggio allo Smeraldo saranno presenti anche il regista di questi cortometraggio e documentari, Antonio Bido, devo dire che ci saranno delle musiche originali di Luca Lombardi scritte appositamente per questa occasione. E apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo con il Pescara, perché sarà un abruzzese, Giampaolo Calvarese di Teramo a dirigere l'anticipo della terza giornata di ritorno tra Inter e Pescara. Il fischietto teramano sarà coadjuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Locicero di Brescia, insieme agli addizionali Marco Guida di Torre Annunziata ed Eugenio Abbattista di Molfetta, quarto ufficiale Fabiano Preti di Mantua. E a proposito delle ultime in casa Biancazzorra andiamo proprio sul sito del Delfino Pescara, perché come vedete continua la preparazione, lavoro di riscaldamento in palestra e tattica sul campo, sul finale di giornata esercizi per la difesa e tiri in porta per gli attaccanti. Differenziato, li leggiamo insieme, per Bovo, Ghiomber, Campagnaro, Vitturini, Gilardino e Brugman. Stop per buyback per sindrome influenzale. Domani allenamento di rifinitura al poggio degli ulivi, poi la partenza per Milano, ma tra la fine della rifinitura e la partenza per il capologo Lombardo ci sarà la conferenza stampa classica pre-gara del tecnico Massimo Odo. Sono intanto 85 e possiamo tornare sul sito del Pescara i biglietti venduti al momento per il settore ospiti dello stadio Meazza di Milano. E a proposito della sfida di sabato sera parla l'ex nerazzurro Cristiano Biraghi, che invita i tifosi del Pescara a credere ancora nella salvezza. Intanto Oddo e Neguai, come avete visto, per l'attacco con Gilardino ancora acciaccato è buyback, influenzato. Quella di sabato per Cristiano Biraghi non sarà una partita come le altre. Arrivi dall'Inter, sei cresciuto calcisticamente nell'Inter, però ovviamente sotto sotto speri di poter lasciare il segno, di poter festeggiare un risultato positivo. Corri in nerazzurro anche se è una gara molto difficile. Sì, è una gara difficile, allo stesso tempo è una gara speciale per me. La squadra dove sono cresciuto, la città dove sono nato, dove sono cresciute e la squadra per cui tifo, però è normale che speri un risultato nostro positivo e ci serve tantissimo. In questi giorni si parla anche di mercato e nelle ultime ore è venuta fuori questa voce che parlerebbe di un forte interessamento della Sampdoria nei tuoi confronti. Tu cosa sai? Cosa ci puoi dire? Sinceramente non so niente. Penso solo al Pescara e a stare qui e cercare di raggiungere l'obiettivo. Poi al resto non sono io che devo pensarci. Tornando a questa gara con l'Inter, questa è la prima di tre partite sulla carta molto difficili, poi ci sarà il recupero con la Fiorentina e la gara con la Lazio. È giusto crederci, si dice giustamente, mancano ancora tante giornate al termine, però questa prima vittoria della stagione è tarda ad arrivare. Sì, non è ancora arrivata, non è che tarda, non è proprio arrivata. Però noi, quelli che siamo qui, che siamo a disposizione dell'allenatore, ci crediamo e abbiamo l'obbligo di crederci per dar conto a una piazza, a una tifoseria, a un presidente che ha investito molto su questa squadra e ci reputa giocatori importanti. Noi dobbiamo dimostrargli di fare il massimo per cercare di raggiungere l'obiettivo che ancora è lontano, però mancano anche tante partite. Cosa vi sentite di dire a questi tifosi che sono delusi, probabilmente anche un po' rassegnati? Sono delusi da tre mesi, quindi a noi ci dispiace, però a noi se stanno dalla nostra parte ci servono, perché comunque ci danno una spinta in più quando giochiamo in casa che nelle ultime partite magari anche sono venuti a mancare un po' anche loro, non parlo dell'ultima che era giusto così, ma delle altre precedenti, quindi per noi è stato più difficile giocare, perché quando il tuo pubblico non è dalla tua parte è ancora più difficile. E adesso scendiamo in Lega Pro, perché domenica torna in campo dopo la lunga pausa anche il Teramo contro il Modena, sfida molto delicata, Teramo impegnato anche sul fronte mercato, allora ascoltiamo. Uno degli ultimi arrivati, il centrocampista proveniente dal campo basso Pietro Baccolo. Un po' ti piacciono le sfide complicate, vieni dal Catanzaro e non era una situazione facile di classifica, vieni a Teramo, trovi un'altra situazione complicata di graduatoria, con che stimoli vieni a Teramo? Sì, sicuramente a livello di classifica entrambe non sono messe bene, anche a Catanzaro eravamo partiti per fare un altro campionato e quindi è ancora più difficile quando ti ritrovi in questa situazione. La stessa cosa è successa qui a Teramo, che sicuramente a inizio stagione non pensava di girare terzo ultimo. Però qui vedo tutti i presupposti per fare un giro di ritorno importante, vedo qualità, quindi sono fiducioso. Cosa oppure chi ti ha convinto ad accettare questa destinazione? Io sapevo la solidità della società e conoscevo la qualità del gruppo, manca ancora tantissimo, quindi parlare di situazioni difficili è giusto da una parte ma sbagliato dall'altra. C'è tutto il modo e il tempo per recuperare. Se questa squadra entrerà sul binario giusto secondo me si toglierà ottima soddisfazione. Arrivi in un reparto in cui c'è davvero tanta concorrenza perché peraltro insieme a te sono altri due gli innesti in mediana del Teramo. Che spazio pensa di potersi ritagliare Baccolo? Io è normale che quando vado in una società ci vado per giocare come chiunque, sarebbe assurdo se una persona non lo pensasse. Ma tuttavia la concorrenza va solo bene a una squadra perché vuol dire che giocherà il migliore, quello che è più in forma e quello che potrà essere più utile alla squadra. In tutta l'esperienza che ho avuto io dove c'è concorrenza c'è più qualità, c'è più... durante gli allenamenti, in partita, gioca chi sta meglio, quindi è solo un valore aggiunto. Parliamo un po' delle tue caratteristiche. Qual è la migliore posizione per vedere Baccolo rendere al meglio? Ma io nasco come mezzala e sicuramente secondo la mia opinione è il ruolo in cui mi esprimo meglio. Tuttavia negli ultimi anni, ad esempio negli ultimi due anni, ho giocato play davanti alla difesa. Prima ho giocato a mezza punta, quindi non c'è un ruolo che alla fine preferisco. Quello in cui la squadra si... il modo in cui la squadra si schiera o il ruolo che l'allenatore decide di utilizzarmi va benissimo. Abbiamo parlato di classifica deficitaria, domenica, neanche a farlo apposta, scontro delicatissimo contro il Modena. Eh sì, come hai detto tu, è una partita che vale sei punti perché è una squadra che ha messa come noi e tra l'altro dopo il Modena ne arriveranno altre due che comunque saranno partite simili dal punto di vista della classifica. È proprio per questo che a mio parere se metteremo in moto la macchina poi andremo via abbastanza spediti. Secondo te ce la farà il Teramo a salvarsi? Sì. E prima di chiudere la parentesi Teramo andiamo a vedere sul sito ufficiale della società Biancorossa che comunica l'interruzione, la risoluzione anticipata del prestito di Luca Orlando di proprietà del Pescara che dunque torna proprio al Pescara dopo un'esperienza non fortunata in maglia bianco-rossa. Peraltro il Teramo sembra davvero molto vicino. A proposito di mercato all'attaccante che in questo momento è a Lumezzane Riccardo Barbuti. Ci andiamo in serie D adesso perché bella vittoria del Pineto ieri nel recupero della prima giornata di campionato di ritorno nel campionato del girone F sul neutro di Isernia contro il Campobasso. Punti pesanti per la squadra di Amaolo e invece un risultato che apre la crisi per la compagine molisana. Il servizio è di Telemolisi. Cominciamo dalla fine di Campobasso Pineto. I circa 130 tifosi rosso-blu giunti a Isernia prendono di mira pesantemente il tecnico Novelli e ne chiedono le dimissioni. Oggetto delle contestazioni risulterà essere anche in prota. L'allenatore rosso-blu ci confiderà di non dimettersi e di aver visto una squadra viva ma rimane lo stesso Novelli comunque in forte discussione. Il Pineto strappa tre punti vitali con un gol di Emili ma ad approcciare meglio era stato il Campobasso con il baby Martiniello al suo debutto dal primo minuto e che al quarto trova tutto l'istinto di Mazzocchetti che para. Vitelli si fa poi anticipare in calcio d'angolo. Sono i rosso-blu a menare le danze. Al diciottesimo la percussione di Vitelli crea lo spazio giusto per un tiro di prima intenzione ancora di Martiniello. Prodigiosa la risposta del portiere abruzzese. Pineto completamente imbambolato e insidioso per la prima volta al ventiduesimo quando Maloku crossa da destra trovando una smanacciata di Palumbo. Ganci verrà fermato in fuorigioco e i giocatori ospiti non se ne avvedono. Continueranno poi con un gol inutile realizzato da Esposito. La squadra di Amaolo prende coraggio. Al venticinquesimo il tiro di Ganci ribattuto da De Mattei. Siteramani invocano un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio del difensore rosso-blu. Al ventotesimo è indemoniato Martiniello il suo tiro scoccato dal limite preso in aria da Mazzocchetti. Il campo basso crea ma non riesce a passare cosa che meriterebbe pure alla mezz'ora tiro cross di Germano. La pala di un soffio a lato con Improta che viene pescato in offside. Al trentaduesimo da un angolo da parte di Fazio c'è un doppio tentativo di Torvich sul secondo il portiere Para ma al difensore di Novelli è mancata decisamente la cattiveria sotto rete. Il campo basso crea una mole di occasioni da gol ma trova spesso un preparatissimo Mazzocchetti. Al trentaseiesimo Germano in becca Martiniello murato per l'ennesima volta dal portiere Teramano. Quello che meno ti aspetti succede al quarantunesimo da angolo abruzzese. Il pallone rimbalza più volte in aria prima che si presenti per il classe 97 mili. Il rimpallo giusto da depositare in rete di destro. Nulla ha potuto Palumbo. Pineto in vantaggio nemmeno troppo giustamente ma tant'è dopo una frazione di campo basso sicuramente anche Sprecone. La ripresa non dirà troppo a livello di cronaca e finirà con il legittimare la vittoria della squadra di Daniele Amaolo pericolosa. Già dopo qualche secondo Torvich perde ingenuamente il pallone a beneficio di Palumbo che se ne va defilato. Tira ma troppo debolmente rimedia in calcio d'angolo la difesa rosso-blu. Al settimo esce Vitelli ed entra Iaboni che debutta con la maglia del campo basso. Dopo qualche minuto ad uscire è un impalpabile grazioso. Entrerà Tini. Si apre una fase di grande nervosismo sia in campo che sugli spalti laddove la contestazione dei tifosi verso Novelli si fa sempre più vehemente. Al quarto d'ora buono il cross di fase per il tuffo di testa di Germano che è davvero troppo leggero. Neutralizza ancora Mazzocchetti. Il Pineto amministra ma dimostra anche di poterla chiudere. Venienza sciupata incredibilmente al ventiquattresimo dal neo entrato cacciatore trovato da Palumbo. Novelli si gioca anche la carta Fioretti in luogo di Martiniello. Il rosso-blu chiudono con quattro attaccanti ma non riescono ad assediare con Razio Cigno il Pineto. Al quarantaduesimo sulla torre di Torvic Iaboni fa il gol della domenica anzi del mercoledì ma tutto viene stoppato per fuori gioco dell'attaccante rosso-blu. Il campo basso perde la terza gara consecutiva e il Pineto cerca di far partire la rimonta in classifica. Vergognosa l'assenza del presidente Perrucci che pare abbia confidato ad alcuni tifosi di essersi pentito di aver dato carta bianca a Minadeo e Cappellacci lo scorso anno. Pentimento amaro ma anche inutile. Ad oggi la distruzione del giocattolo campo basso si sta verificando proprio per mano di Perrucci e Minadeo. Inoltre i giocatori rosso-blu hanno chiesto di avere prima della partita di domenica a San Mauro di Romagna un incontro chiarificatore con la stessa società rosso-blu. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Tra poco il Meteo e il TG6 torna con la terza edizione questa sera alle ore 23. Buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.